E naturalmente qui vediamo e troviamo anche delle splendide piatine, avete lavorato parecchio questi giorni? Molto tanto, abbiamo lavorato molto tanto ma siamo soddisfatti di essere protagonisti di questa offra che a livello internazionale è una delle migliori. Qual è stata la piatina che è andata più di moda? Beh, quella con la porchetta è sicuramente tra le più scelte, visto che la facciamo noi e in Maremma di produzione propria, sì. Quindi, piatina con la porchetta, la conoscevate? No, adesso la conoscete, piatina con la porchetta. È eccezionale, se ancora non avete assaggiato sapete dove trovarci, la spianata maremmana. Allora, la nostra spianata maremmana ha un impasto che è tra una piatina e una focaccia e viene cotta su pietra forno a legna per poi essere farcita con i nostri prodotti tipici locali della Maremma, quale è la porchetta maremmana, crudo rucola e stracchino, speck e stracchino, poi abbiamo le vegetariane, il tutto di produzione propria. La favolosa spianata maremmana. Da dove venite voi? Siamo maremmani, dalla terra dei butteri. E da dove esattamente? Siamo a Capalbio, un piccolo paesino in provincia di Grosseto, nel Grossetano. Quindi se vogliono trovarvi, venite a? La spianata della Maremma. Venite a? Grosseto. Venite a Grosseto, venite a Grosseto perché? Perché c'è la spianata buona. Ovvio, chiaro appuntamento a Vinitaly 2019. 2019.